questo promoter dice che per un sabato qualunque sono 7 8 mila euro per 30 40 minuti per avere il consigliere minetti allora ti risulta che io abbia fatto serati in discoteca no non lo so qualcosa qua già gira questo giro questo volantino ti spiego allora che gente che utilizzi il tuo nome si può anche capire però gira questo volantino c'è scritto c'è scritto nicole c'è scritto nicole minetti esclusivo glamour tour fruscio buongiorno sono anillo sono un giovane napoletano organizzava un po di eventi in provincia di disturbo senti io ho letto che è possibile diciamo avere una tappa del tour che sta facendo nicole minetti ma è ma è bene lei oppure una sosa c'è questa possibilità di farla venire noi comunque proprio per capire perché noi potremmo avere delle sale anche abbastanza esclusive in qualche locale importante della provincia di napoli semmai anche per non troppe persone bisogna capire bene bene la tipologia alcune nome della struttura dove si trova delle foto ma lei lei immagina perché troppo troppo vicino ravvicinato per il veglione sarà impegnata immagino per il veglione immagino sarà impegnata già lei per il 31 no troppo troppo vicino come come data guarda bisogna 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 vedere perché c'erano delle delle trattative e se le ha distinte quindi potremmo anche fare come secondo passaggio terzo passaggio si ma lei più o meno il costo qual è che si prende lei allora per quanto riguarda le date normali stiamo intorno ai 7 8 mila euro noi siamo dei promoter voi fate tutto con il management direttamente ah ok quindi col management della minetti o con voi con il management della minetti ah perfetto ci mettete poi in contatto voi con il management andiamo a definire tutta la data voglio dire il contratto viene fatto con loro ah ok ma lei c'ha il proprio management Nicole Minetti management questa società che ha fatto lei no? ti spiego non per il 31 questa città ma per i sabati normali ah i sabati normali 7 mila euro il 31 quanto potrebbe essere? il 31 si sta valutando un attimo cioè lei che fa? balla? che fa? fa uno spettacolo? fa qualcosa? dipende da 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 come si evolve un po' il punto però voglio dire partiamo dal presupposto che lei ha detto voglio dire quindi sta lì a sta in champanierina può salire su un palco e quindi dire due cavolate qualcosa e poi se la serata le piace può paricchiare può dire qualcosa al microfono oppure calmarsi in champanierina grazie a tutti